Il sindaco di Torino, Chiara Pendino, il suo vice e l'intera giunta hanno presentato il bilancio di fine anno e le trasformazioni che subirà la città, un investimento importante per riqualificarla. Grazie al lavoro fatto riusciremo a chiedere di accedere al finanziamento, c'è una finestra a settembre 2019, quindi due anni di progettazione per una linea che coinvolgerà tutta l'area di Torino e non solo e che cambierà Torino Nord e Torino Sud, quindi permetterà sicuramente di migliorare il trasporto pubblico ma permetterà anche di riqualificare zone difficili della nostra città, un investimento da più di 3 miliardi di euro. La conferenza si è poi focalizzata sulla TAV, il sindaco per coerenza e concorde con la chiusura dello stravatorio. Rido perché la città di Torino è uscita dall'osservatorio due anni fa, quindi ovviamente come scelta noi siamo usciti dall'osservatorio perché ritenevamo l'osservatorio non utile molto prima di questa dinamica politica, quindi per noi è assolutamente coerente il fatto che venga chiuso l'osservatorio. Per quanto riguarda l'analisi costi e benefici, Appendino ha affermato che l'importante è che vengano pubblicati. Io credo che il Premier Conte ben abbia fatto a ribadire che l'analisi costi e benefici e quindi l'analisi dell'opera in senso stretto e l'analisi dei costi per eventuale chiusura o stop dell'opera verranno pubblicati a breve e penso che sia giusto che si sia preso il tempo di venire sul territorio e condividere la scelta con gli attori coinvolti, quindi ci vorrà qualche mese e poi verrà presa la scelta definitiva. Una volta fatta l'analisi sarà il Governo a decidere. Questa è una scelta ovviamente che spetterà il Governo e nei limiti dei poteri che può attuare il Governo. Io ribadisco che è importante che questa analisi costi e benefici venga pubblicata, è importante che ci sia un dibattito sul territorio e poi quando ci sarà l'analisi ci confronteremo. Nessun rischio che la maggioranza traballi, il Sindaco ha dichiarato che porterà a termine il suo mandato. E' due anni e mezzo che ogni mese qualcuno mi chiede, cade il Sindaco, cade la maggioranza, porterò a termine il mio mandato, ve lo assicuro. Grazie. Ti auguri poi torinese. Che sia un anno pieno di speranze, di ottimismo e sapete che questo è un capodanno magico e l'idea è di regalare una magia in modo tale che ciascun torinese possa vedere un suo sogno realizzato. E poi il 2019, se devo dire, un luogo fisico che vedrà la trasformazione, sicuramente Portapalazzo perché la vedremo totalmente riqualificata. Grazie.